La 24esima edizione del fashion show NEED ha portato sulla scalinata di Palazzo dei Priori le creazioni per uomo e donna dei 26 studenti più meritevoli del corso triennale di formazione e professionale di moda, talenti emergenti tra i 19 e i 25 anni provenienti da tutta Italia e dall'estero, inclusa Francia, Nord Europa, America e Asia, che hanno seguito l'intero processo produttivo di ciascun capo. Tradizionale sfilata che si è tenuta a piazza 4 novembre, come sempre in vista della chiusura delle iscrizioni per il nuovo anno accademico del NEED, il nuovo istituto di design di Perugia, che prenderà il via il prossimo 4 novembre. Una vetrina ancora oggi è un trampolino di lancio per i diplomati dell'istituto perugino, centro formativo d'eccellenza attivo dal 1983 e che propone anche quest'anno 5 corsi triennali di graphic design, mode e fashion design, fotografie e visual content creation, product interior design, illustrazione, fumetto e animazione digitale e tre corsi master, styling e fashion fotografie, illustrazione e fumetto.